è buona la torta di mamma ti è piaciuta ti è piaciuta la tortina della mamma quante fette hai mangiato di torta due due la torta con le mele era buona era buona amore è finita è finita amore torta di mele della mamma è sempre buonissima guardate qua il piccolo Noah questo è qualche qualche mese fa è già cresciuto tanto qualche mese fa forse un anno fa è già cresciuto tanto ma la bellezza di Bianca Zè che ha una voce impressionante ma anche la donna più bella del mondo guardate con questo vestito incredibile mi piace un sacco non so quanti anni abbia ma so che è veramente molto bella